Tra di voi so benissimo ci sono sviluppatori che utilizzano Construct, sviluppatori che utilizzano Godot e sviluppatori che utilizzano Unity. Poi ci sono quelli pazzi, incredibili, che utilizzano tutti questi engine che creano videogiochi con qualsiasi engine disponibile sul mercato. Oggi video stra interessante perché ci sono delle offerte incredibili, ci sono le offerte di primavera fino al 30 aprile 2021 riguardo alcuni plugin e tante altre cose bellissime riguardo Unity. Unity Asset Store ha messo delle offerte secondo me stra interessanti che andremo a vedere nel breve insieme, ma ovviamente vi lascio i link in descrizione per vedere questi plugin add-on e così via. Vi ricordo che io non ho nessun codice coupon in questo caso in descrizione, quindi se comprerete ovviamente uno di questi plugin io non otterrò assolutamente nulla. Mi piace specificare questa cosa, magari alcuni dicono eh però magari Unity paga, purtroppo no. Allora, siamo all'interno dell'Asset Store di Unity, come state vedendo abbiamo alcuni sconti incredibili, tra l'altro c'è anche il codice coupon Spring 2021 per ottenere dei coupon aggiuntivi. Quindi ottieni un extra il 5% su uno sconto di 100€ or more e 10% se spendi 150$. Questa cosa secondo me è stra interessante. Questo è il video, Popular Assets col 50%, come state vedendo questi sono gli assets in sconto. So che alcuni di voi ancora sono all'inizio, ma magari ci sono alcuni veramente molto in gamba che potrebbero utilizzare questi plugin in maniera veramente veramente forte. Ci sono anche degli sconti che durano soltanto 24 ore, quindi potrebbero essere interessanti per alcuni. E poi come state vedendo ci sono plugin su plugin e anche assets, quindi veramente di tutto. La prima cosa che possiamo vedere è che col 50% troviamo dei plugin molto interessanti. Il primo è il Nani Novel, questo qui ragazzi ci dà la possibilità di creare un Visual Novel con Unity. E quando l'avevamo visto era tra i più grandi programmi per fare Visual Novel ed è un plugin per Unity, quindi poi ci dà la possibilità di sfruttare a pieno Unity. Non è per tutti, ovviamente è per quelle persone che utilizzano un po' Unity, non è per quella persona che vuole fare il Visual Novel e basta. Ma come state vedendo da 134€ a 67€, poi non so se ci saranno tassi aggiuntive, ci permetterà di creare in maniera molto semplice, perché comunque è un plugin veramente stra-recensito, dei Visual Novel. Poi abbiamo un programma che ci dà la possibilità di generare terreni e così via a 64€, magari stra di nicchia questa cosa qui, quindi magari non per tutti. Stra interessante ragazzi è il Playmaker, Playmaker è un plugin per Unity che ci dà la possibilità di creare videogiochi senza scrivere codice. Io lo vorrei comprare, magari faccio questa pazzia, butto 30€, perché potrebbe essere il modo magari a tempo perso per avvicinarmi di nuovo su Unity e provare a fare qualcosa. Tra l'altro con questo plugin Playmaker sono stati fatti giochi come Inside, eccolo qui, ma anche tanti altri giochi. Non so, magari non lo prendo, vediamo un po' perché so che poi se lo prendo mi devo mettere a studiarlo e il tempo è quello che è, ma il tempo si crea come dico sempre. Secondo me è uno tra i plugin più interessanti, tra l'altro approfittare dell'offerta e prenderlo 30€ invece di 60€ potrebbe essere un'ottima opportunità. Dynamic Bone invece di 17€ potrebbe essere interessante per quelle persone che stanno realizzando le animazioni. Volete creare un top-down shooter? Ragazzi, l'avevamo già parlato di questo plugin, console di 26,80€, c'è la possibilità di creare un top-down tutto strafacilitato, il setaggio della telecamera, ci sono un casino di preset, quindi potrebbe essere ottimo per quelle persone che vogliono fare robe di questo genere. Poi abbiamo assets come questi qui, cioè abbiamo tantissimi assets poligonali, cioè possiamo fare giochi incredibili, anzi, a dire vero, più di un gioco perché se ne possono fare tantissimi, costa veramente un pochino perché 125€ invece di 250€ dipende, valutate. Se siete sviluppatori all'inizio, secondo me magari non ci sta, se invece sapete utilizzare bene Unity, beh, allora ve lo consiglio. Poi cosa abbiamo, cosa abbiamo? Io sto andando così ad occhio, abbiamo un plugin per il Pathfinding, forse uno tra i migliori, tra i più interessanti, come state vedendo, Pathfinding Project 4.2, ci permette di fare giochi 2D, giochi 3D, quindi un Pathfinding che si adatta a qualsiasi esigenza, 44€. Io quello che consiglio è se l'obiettivo vostro è quello di diventare degli sviluppatori di videogiochi e lavorare nelle aziende piccole o grandi, beh, queste cose dovete saperle farle da zero. Però ci sono delle cose che secondo me possono essere acquistate, non c'è bisogno di reinventare la ruota, cioè se lo sapete fare e ogni volta dovete implementare una cosa del genere è meglio utilizzare plugin di questo genere. Poi dipende, magari di questa cosa ne parleremo in futuro. Abbiamo questo plugin Grabbit che è in breve, ah, bellissimo, praticamente quando impostiamo, modifichiamo la posizione di un oggetto in automatico subisce la fisica, quindi come avete visto non passa attraverso un oggetto ma in automatico setta la fisica. Troviamo tantissimi assets in sconto, ma veramente un'infinità, sia quelli poligonali, quindi singoli, da 50€, ma anche i pack completi. Se faccio shop all 3D possiamo vedere veramente animated people, bellissimo questi qua, questi qua sono fantastici, penso per giochi di calcio, giochi di sport in generale, non carica, vabbè, fa niente. Troviamo animali, troviamo veramente la qualsiasi. Troviamo anche questo qui, secondo me è molto bello, se vogliamo creare un non gioco che ci dà la possibilità un po' di personalizzare, Advanced People Pack, la possibilità anche di personalizzare questi personaggi. Ovviamente vi ricordo che quando create giochi 3D bisogna considerare tante belle cose se volete creare dei giochi di qualità. Sto andando adesso a vedere invece tutti gli add-on, Easy Save, penso per gestire i salvataggi all'interno di un videogioco, Shapes, penso che questo qui serva semplicemente esatto per creare delle shape, quindi delle forme dinamiche o meno, all'interno dei nostri videogiochi fatti in Unity, Ultimate Sound FX, questo potrei anche valutarlo, sarebbe interessante capire che suoni ci sono qui dentro, sono 9.036 suoni, quindi che potrebbero essere ottimi e costa soltanto 9€. Dot Twin Pro, come sapete benissimo, io amo il Twin su Construct Dot Twin Pro, è il classico Twin, ci permette di fare delle animazioni, tra l'altro utilizza anche in questo caso il 3D, quindi sapete cosa penso. Bellissimo questa cosa, abbiamo Game Creator, bellissimo, quindi praticamente utilizza Unity ma Create Character in One Click, quindi penso che sia poi stra-semplificata questa cosa, potrebbe essere ottimo per quelle persone che sono all'inizio, bello. Ma troviamo anche il Corgi Engine che ci dà la possibilità di creare giochi 2D e 2.5D se non sbaglio, platform a soltanto 26,80€. Secondo me si può fare un bel acquisto in questi mesi, sfruttando anche del 5-10% di sconto, perché lì stanno parlando di dollari, mentre qui il prezzo è in euro, quindi valutate bene questa cosa, almeno, non so se stavo sbagliando o no. Quindi secondo me forse riuscite anche ad ottenere un altro sconto. Puppet Face, penso per lavorare sulle espressioni facciali dei nostri oggetti. Altri Sprite Effect, questi io li adoro e potrei anche valutarli io se vengono effettivamente esportati in frame by frame, dato che non utilizzo gli uniti 3D o almeno attualmente. Mai dire mai in futuro che potrei iniziare ad utilizzare un Engine di questo genere, poi cosa abbiamo? Abbiamo, ragazzi, la qualsiasi. Ovviamente non voglio fare un video di 20 minuti dove faccio vedere tutti questi plugin, tutti questi assets, ma quello che faccio è darvi il link che trovate in descrizione per suggerirvi, ragazzi, di andare a vedere proprio dei plugin di questo genere. Ve lo consiglio veramente tanto se utilizzate Unity perché potrebbe essere l'occasione che magari riuscite a trovare dei plugin che potete studiare oppure semplicemente dei plugin che possono aiutarvi a ridurre il tempo di produzione dei vostri videogiochi. Secondo me è importante studiare tutto, però ripeto, se siete game designer, quindi l'obiettivo è quello di creare prototipi, magari il vostro lavoro è più progettuale che è a livello di codice, quindi plugin di questo genere vi aiuteranno a creare dei prototipi strainteressanti. Quindi ragazzi, questi sono gli sconti di primavera su Unity3D, vi lascio il link in descrizione, se vi è piaciuto questo video classico like, commento se volete chiedermi qualsiasi cosa e vi suggerisco di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati perché ogni giorno esce un video qui sul mio canale. Ci vediamo domani con un nuovo video, ciao! Ciao!